Capitale inetta, ovvero perché traballa ma non cade la giunta di Virginia Raggi, il sindaco che vuole governare Roma con WhatsApp. Delegittimata dall'inchiesta giudiziaria, serragliata sul tetto del Campidogno, Virginia Raggi dà prova di non governo e assistono a questa tragicomica prova di non governo sia gli elettori a 5 Stelle, sia gli italiani tutti, sia Grillo e Casaleggio che compulsano sondaggi tragici, per l'appunto, ma non possono liberarsi di Virginia. Perché? Perché Virginia Raggi è il lato debole di un triangolo con accanto Rocco Casalino, il plenipotenziario della comunicazione ex grande fratello e al vertice di questo triangolo c'è Luigi Di Maio, il volto premierabile di 5 Stelle, l'uomo su cui Grillo e Casaleggio vogliono investire per vincere alle elezioni politiche. Se crolla Virginia, crolla il triangolo e crollano le aspirazioni di governo di Luigi Di Maio. Ne parliamo domani su Tempi in Edicola.